La ceramica di Nove va alla conquista della Cina, un mercato dalle enormi potenzialità che guarda con grande interesse al Made in Italy e alla nostra produzione artistica. Uno sbocco che potrebbe dare una nuova spinta al settore della ceramica in sofferenza da anni. Il sindaco di Nove, Luca Rebellato, è appena rientrato dalla Cina, dove si è recato con una delegazione dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, nell'ambito di un progetto culturale di scambio che apre anche a possibili nuovi scenari economici. 1 miliardo e 400 milioni di abitanti con 20 mila ricchi miliardari. Sono interessati a un prodotto di eccellenza, alle famose griff e comunque sia anche a pezzi unici. Oggi il nostro territorio nazionale ha 2000 aziende a livello Italia con circa 4 addetti per azienda. Quindi una produzione veramente artistica, numeri limitati ma eccellenza nella produzione e nella qualità. Design, qualità, arte, gusto italiano. Un mix perfetto per chi ricerca e vuole bellezza, la cultura del bel paese, l'abilità dei nostri artigiani artisti. A Gindo Ogen abbiamo sottoscritto questo accordo di collaborazione che prevede appunto l'invio da parte nostra di alcuni artisti per uno scambio culturale di esperienze, di idee, di innovazione e ci sarà successivamente l'ospitalità di alcuni artisti cinesi che verranno appunto condivisi a livello del territorio nazionale. Potrebbero essere presenti già alla prossima festa della ceramica? Ma lo ospichiamo.